L'eredità violata, un romanzo inedito scritto da Giuseppe Abbate, cittadino di eredita, che è vincitore del premio letterario Il Borgo Italiano 2020, Borgo di Aci Castello. Allora, innanzitutto, perché scrivere un romanzo dedicato alla tua terra e quindi alla tua terra natia eredita? Ma diciamo che l'idea è nata un po' per gioco, perché per diverse edizioni della festa patronale ho partecipato, ho contribuito come organizzatore e sono venuto a conoscenza poi di tanti piccoli risvolti, storie alle varie, eccetera. E siccome poi ogni anno, ogni edizione succedeva sempre un qualcosa da raccontare, mi sono detto ma per gioco quasi potrei scriverne un libro. E così da questo gioco è nata questa idea che poi non mi ha più abbandonato. Infatti già dopo pochi mesi, era il 2016, mi sono messo a scrivere questo romanzo, la cui stesura è stata completata un annetto fa. E' nata quindi quasi per gioco, però alla fine è diventata una cosa abbastanza seria, perché mi sono reso conto che inventando, inventando poi tra virgolette, perché buona parte dei fatti su cui si sono da la vicenda si sono veramente svolti, e ho pensato che fosse un'occasione, diciamo così, per poter raccontare una tradizione innanzitutto, e quindi poi un paese, perché è un paese così piccolo, si lega in modo indissolubile alle sue tradizioni. Ho pensato che fosse un buon veicolo, un buon mezzo per far conoscere questa tradizione e darle un minimo di visibilità. Giuseppe, possiamo dare delle anticipazioni ai telespettatori che seguiranno questa intervista? Qual è il tema principale di questo romanzo? Ma il tema principale è proprio questa sentitissima festa patronale che si svolge ad eredita il 24 di giugno, un'attività di San Giovanni Battista, dato che tra gli ereditesi e il loro patrono c'è un legame speciale, costruito in tanti secoli di storia, voglio dire, e la vicenda si è ambientata proprio in un'eredita insolita del primo novecento, dove ho cercato di ricostruire un po' il contesto storico sociale del periodo, ed è una vicenda abbastanza intrigante, almeno da quello che mi hanno detto i pochi lettori a cui mi sono rivolto per avere un giudizio in primis sull'opera, e parla appunto della vicenda di un'insolita coppia di investigatori che si mettono sulle tracce di una sacra refurtiva che è per l'appunto la tracolla ricolma di ori votivi destinati al Santo Patrone, che all'improvviso viene trafugata e quindi questi due insoliti, improvvisati investigatori proveranno così a recuperarla. Ovviamente il tuo romanzo è inedito, quindi non lo troviamo in libreria e per il momento non ci sarà la possibilità di leggerlo, ma hai già pensato a una pubblicazione futura? Sì, sicuramente sì, infatti non vedo l'ora di poter comunicare a quanti già me l'hanno chiesto la pubblicazione del libro, sarà futura, penso di farlo entro il mese di ottobre, stiamo valutando se farlo in proprio oppure tramite una casa editrice che si accompagna al premio letterario e quindi vedremo che comunicazioni ci daranno. In ogni caso voglio dire prossimamente, penso in autunno, dovremmo uscire con il libro finalmente. Ovviamente tu già sai della tua vittoria a questo premio letterario, però il 12 settembre ci sarà proprio in diretta TV la cerimonia, ecco è possibile seguire anche da parte di altre persone ovviamente la presentazione? Sì certo, anzi invito tutti gli amici e tutte le amiche a seguirmi, il 12 settembre canale YouTube ilborgoitaliano.tv ci sarà questa premiazione che purtroppo devo dire sarà solo ed esclusivamente telematica via web data il periodo particolare e questo maledetto Covid-19 che non ci permette di poter partecipare fisicamente ad Acci Castello, sarebbe stata veramente una bella occasione per vedere sicuramente uno dei borghi più belli d'Italia. Certamente, ma noi ci riserveremo insomma di intervistare Giuseppe prossimamente quando poi ci sarà la pubblicazione del romanzo e ovviamente invitare i telespettatori di Cilento Channel a leggere questa storia bellissima legata ad una terra che è poi eredita Cilento. a leggere questa storia bellissima legata